Anedoto su tutti i featuring a sto punto, approfitto io prendo la palla al balzo, partiamo da sotto Vai pure Fedez, tutti mi hanno scritto, ah hai fatto tornare Fedez a rappare Io non voglio prendermi in merito di una roba che non ho fatto, perché io gli avevo mandato dei pezzi super pop Proprio per dire Ah, per avvicinarti a lui Per avvicinarmi a lui gli avevo mandato la roba più pop che potevo, capito? E poi ho detto minchia magari mi va anche bene No scherzo No, gli avevo mandato delle robe che secondo me potevano stare bene con lui E gli ho mandato questi due brani, mi ricordo, e mi ricordo esattamente le sue parole che mi fa Bro, sono dei bei singoli ma io voglio entrare nel tuo mondo Lui mi ha detto proprio così Quando mi ha detto così ho detto minchia adesso vado a casa e gli sparo La mia classica strofa dove metto Cioè devo dire che ho la sicurezza, che ho le Nike, che vengo da Verona Che io disso, cioè proprio me le metto, sai la classica strofa di Jamil E ridico tutte queste robe qua in modi diversi E l'ho scritta effettivamente così E gli ho mandato quella roba lì, Drill Che era una roba nuova per me E lui l'aveva già fatto magari con Da Supreme Ma comunque la nostra un po' più new yorkese E abbiamo fatto sto pezzo dove lui fa sta super strofa E poi ti dico che uno È merito suo che abbiamo fatto questo pezzo perché io immaginavo altro E due ti dico che parlandoci, avendoci a che fare durante vari mesi Perché comunque ci abbiamo messo un po' Perché comunque lui è molto occupato Aveva da fare lol, aveva da fare varie cose E quindi ci siamo sentiti per variati mesi Ti dico, è la persona più umile che io abbia mai conosciuto Infatti sono molto affezionato a lui E odio quando le persone mi parlano male di Fedez O ci provano a parlarmene male Perché proprio non toccatemi Fedez È facile essere umili quando non sei un cazzo di nessuno È più difficile essere umili quando tu sei arrivato così in alto E ti dico che non ho conosciuto mai persone che sono arrivate così in alto E quando ho conosciuto lui mi sono reso conto di quanto fosse più umile Di tantissime persone che sono più in basso di lui E questa cosa mi ha fatto veramente strano Cioè artisti con cui ho parlato nelle serate Che si sentono delle superstar Quando invece lui ha un modo di fare super genuino Ti chiama, ti dice Guarda, volevo fare queste barre Tu che ne pensi? Vuol dire che ne penso io Puoi dire quello che vuoi bro Non mi permetterai mai neanche di dire cosa ne penso Cioè tu sei Fedez Puoi dire quello che vuoi Invece è proprio genuino nel confronto Quando si collabora O almeno lo è stato così con me E quindi lo ringrazio E apprezzerò sempre questa cosa Anche perché lui non gliene veniva in tasca niente Di fare una strofa a me Cioè non è che fare una strofa a me Gli cambiava la carriera O gli entrava un euro in tasca Niente Me l'ha fatta così In amicizia E l'ho apprezzato molto Poi invece Nico Pandetta È un grande La cosa che ho apprezzato di più di lui Che nonostante stesse affrontando veramente un periodo difficile Infatti adesso lui manca È dentro È riuscito comunque a farmela Perché mi aveva dato la sua parola Che ci sarebbe stato E quindi ho apprezzato un sacco Poi mio padre è siciliano E c'è un sacco di amici comunque Malandrini che si ascoltano Nico E lo vedono come una leggenda Come è giusto che sia E quindi volevo che ci fosse anche lui Ed era anche questa una copiata Che non era scontata Perché comunque facciamo due robe diverse E mi ha fatto una super strofa Dove rappa in una maniera che lui di solito non fa E quindi sono contentissimo Inocchi È da quando abbiamo fatto il video di Nuovo Inocchi Che io dicevo che ero Nuovo Inocchi Perché lui diceva a tutti E quindi ho detto Io sono Nuovo Inocchi Perché anch'io disse a tutti Che ci dicono Dovete fare una roba insieme Dovete fare una roba insieme E quest'anno l'abbiamo fatta Ti dico una roba Inocchi è l'unico Con cui sono andato in studio Col pezzo pronto Io avevo la mia strofa pronta Ritornello pronto E avevo lasciato il buco Per la sua strofa Lui doveva solo sentire il beat E mettersi a scrivere Sono entrato in studio Il tipo In cinque minuti Ha scritto una strofa Io l'ho sentita La strofa era così figa Che sono tornato a casa Ho buttato la mia E l'ho riscritta da capo Per farti capire E io ci avevo messo Una settimana a fare Quindi mi ha fatto demoralizzare Mi ha fatto demoralizzare In una maniera Che ho detto Io adesso mi prendo Anche un mese Però deve essere A livello della tua strofa Da cinque minuti E lo dico apertamente Infatti quando glielo ho detto Lui era contento Era galvanizzato Dal fatto che comunque Io l'avessi rifatta E gli ha fatto piacere Perché vuol dire Che aveva spaccato Con Emis Collaboriamo da una vita E penso che collaboreremo Sempre Perché comunque Emis è stato uno dei primi Se non il primo Big Dopo Vacca A darmi fiducia E anche in quel momento Lui era super in hype Quando mi ha fatto La strofa Era proprio al top top Della sua carriera Quindi lo ricordo sempre Con molto rispetto E molta ammirazione Anche lui Gli ho mandato il pezzo Alle dieci di sera E te lo giuro Alle cinque della mattina Mi squilla Whatsapp Con link we transfer Da scaricare le voci Questa è gente professionista Che fa rap Perché è rapper E lo fa Sia come lavoro E sia come passione Poi c'è Knight Che per me È eminem italiano Quindi Fieramente forte Con il ragazzo Cioè Qua c'è Knight E poi ci sono gli altri Per me Per me tecnicamente Sì raga No tecnicamente Direi anche per me È innegabile Poi magari io ti dico In macchina Mi ascolto di più Jake Perché Mi rappresenta di più Però non posso dire Che Knight È il più forte Per me Ce ne sono altri Che sono forti Non metto in dubbio Che Marra Lazza Jullier Questa gente Sia veramente forte No però Ammettiamo che Ma io dico Tecnicamente Quello che fa Knight Non lo senti fare dagli altri Cioè il tipo di incasti E di extra beat Così scanditi bene Chiari Perché è anche facile fare extra beat E non capisci niente Il fatto di essere così Anche un artista A 360 gradi Che ti riesce a fare Anche il pezzo Intonato Cantato E non parla di strada E non ha bisogno Di fare niente Tranne che la sua musica Per andare Lo mette per me Al primo posto Non ha una crew Non usa Instagram Quello fa solo musica Fa la sua roba E spacca il culo Quindi per me Veramente lo metto Un po' sopra tutti Per il mood E per tutto quello che ha fatto Insomma Poi c'è Jake Che ti ho già detto Che è tra i miei preferiti Ed è Top 3 Sì Penso che sia anche uno Se adesso sali in macchina mia Nella mia playlist C'è solo Jake e Primo Di italiani Sì Te lo giuro C'ho due o tre pezzi di Jake E un paio di pezzi di Primo E in mezzo C'è solo Lil Peep X-Tentation Tutta roba così Super Sad Emo Ma come ti senti Cioè Com'è fare un fit Con una persona Che è sempre stimato Ma con Jake Ero tipo un bambino Te lo giuro Ma glielo ho detto anche cento volte Anche lui se ne ha reso conto Che ero lì così Cioè super fan Che lo guardavo Proprio sì Mi ha dato Un effetto diverso Cioè Ho conosciuto gente famosa Come Axe Eccetera E non ho avuto Cioè sì Massimo rispetto Non lo dico Però non ho avuto La stessa emozione Di quando ero in studio Con Jake Perché era un cerchio Che si chiudeva Mi sono rivisto io In autobus Con le cuffiette Ad ascoltarmi Serpi Ad un certo punto Ero seduto Con Jake Che dice Chiamo Jamil Solo per chiamo Jamil Basta Oh già Potevo già andare a casa Jack mi hai nominato Capito In una strofa E io A 13 anni 14 anni Ci ho aspettato Una vita Per questo momento Quindi è stato bellissimo Immagino E siamo super Siamo super presi bene L'uno dell'altro Quindi ci sentiamo Scherziamo Andiamo a vederci Un paio di match Di box insieme Quando capita Perché comunque Io sto a Verona Però è una persona Che sento volentieri E che Stimo un sacco Vuoi vedere L'episodio completo Clicca qui Che sento volentieri